A cosa serve un Ministero per gli affari regionali quando ce n'è uno per la coesione territoriale e viceversa? Sono le domande apparentemente ingenue che ha posto il Commissario per la Splendid Review, Carlo Cottarelli, quando si è avvicinato ai dossier della spesa pubblica. Cottarelli è arrivato da Washington, era al Fondo Monetario Internazionale, sta guardando tutti i capitoli della spesa italiana, solo per Palazzo Chigi vengono fuori delle spese anche apparentemente divertenti e bizzarre, ma soprattutto bizzarre. Esempio, quasi 4 mila Euro spesi in tende per le finestre, 25 mila Euro spesi nella stessa settimana per lavare presso lo stesso fornitore le tende per le finestre, di cose così ce ne sono decine di migliaia, l'obiettivo è tagliare 32 miliardi la strada è lunga, ma Cottarelli sa che ce la potrà fare solo se avrà il supporto politico del governo.